Si sa, Padre Pio ha sempre detto che ogni cristiano dovrebbe sforzarsi di assomigliare a Gesù e di diventare sempre più simile al figlio di Dio. Ecco cosa Padre Pio, in una lettera scritta di una sua figlia spirituale, in data 14 luglio 1914, dice Unite il vostro cuore al cuore di Gesù e siate semplici di cuore, così come Gesù vuole. Sforzatevi quindi di ritrarre in voi la semplicità di Gesù, tenendo lontano il cuore dalle tentazioni terrene, dagli artifici caranali. Procuratevi avere una mente sempre pura nei suoi pensieri, sempre retta nelle sue idee, sempre santa nelle sue intenzioni, e avere poi una volontà che non cerchi altro che Dio, il suo gusto, la di Lui gloria e il di Lui onore. Specchiamoci, mia cara figliola, in Gesù, che porta una vita nascosta, che porta a una vita nascosta. Tutta la sua infinità, tutta la sua infinita maestà, è nascosta tra le ombre del silenzio di quella modesta botteguccia di Nazareth. Quindi sforziamoci anche noi di menare una vita tutta interna, nascosta in Dio. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!